Buon sabato, è l'8 dicembre 2012, a Riete. I rapporti con gli amici saranno ottimi e ciò non potrebbe avvenire in un periodo più favorevole, considerato che il weekend è appena iniziato. Toro, ci sono dei progetti che avete lasciato a metà perché credevate non funzionassero o avete avuto paura di portare avanti? In questa giornata sarebbe bene riprenderli in considerazione. Gemelli, vitali ed energici, la vostra personalità emergerà procurandovi quelle gratificazioni che meritate pienamente. Cancro, non fidatevi di nessun altro che di voi stessi, fate tesoro del vecchio detto secondo il quale chi fa da sé fa per tre. Leone, non esiste solo la comunicazione verbale e in certi casi è bene ricordarsi che gesti e sguardi sono più eloquenti di mille parole. Vergine, se ci sono stati dei malintesi con un socio, un collega o un collaboratore, chiarite subito la situazione ed eventuali problemi. Bilancia, la routine quotidiana potrebbe risultarvi difficile da sopportare soprattutto in un periodo in cui gli astri vi spingono a sognare, a fare progetti in grande. Scorpione, il vostro punto forte in questo momento potrebbe essere il fatto di riuscire a valutare oggettivamente le situazioni che vi trovate a vivere. Sagittario, in primo piano la vostra sfera affettiva. Venere, mette in primo piano la sfera affettiva. Marte invece pone inevitabilmente l'accento sul gioco dell'Eros. Capricorno, le stelle vi chiedono impegno e attenzione per la famiglia. Se siete giovani è possibile che vi siate messi in urto con qualche parente. Acquario, puntate sulla creatività che sarà eccezionale e seguite il vostro fiuto. La possibilità di concludere contratti vantaggiosi o buoni affari sarà notevole. Chi ha un'attività commerciale potrebbe vedere crescere il volume delle vendite. Pesci, le stelle lasciano prevedere che molti di voi troveranno oggi una giusta soluzione ai loro problemi economici.